Ben ritrovati ragazzi, ho voluto realizzare questo video proprio per venire incontro alle vostre esigenze. Molti di voi mi hanno chiesto che cosa poter portare per l'esame per tecnologia e in realtà due sono le alternative. Ho portato un argomento teorico che appartiene alla programmazione o anche che riguarda prettamente la tecnologia o quindi come si realizzano le cose e come funzionano determinate diciamo meccanismi oppure potete realizzare un progetto. Quando si parla di progetto significa progettare quindi realizzare sia un qualcosa ex novo oppure realizzare per esempio un modellino. Adesso proprio in questa lezione vi illustrerò le possibilità attraverso dei file e attraverso anche i lavori che sono stati fatti negli anni precedenti. Per prima cosa vi dico che tutti questi file vi verranno inviati e sono tutti dei laboratori o meglio sono delle schede tecniche per la realizzazione di modellini proprio perché la tecnologia studia la progettazione o meglio la realizzazione anche pratica delle cose. Quindi se voi scegliete di realizzare uno di questi laboratori quello che vi chiedo è di documentare tutti i passaggi per la realizzazione dell'oggetto. La documentazione è fondamentale perché un po' dimostra che diciamo siete stati voi a realizzare l'oggetto e in secondo luogo anche se venite aiutati quello che è importante è capire il processo di produzione cioè capire i passaggi che vi portano alla realizzazione del modellino o di un oggetto reale. Quindi ricapitolando potete portare un argomento teorico oppure progettare qualcosa di ex novo dopo vi farò vedere qualche esempio oppure realizzare qualcosa che può essere una lampada che può essere un video che può essere un manifesto perché non è detto che debba essere per forza qualcosa di costruito manualmente ma può essere qualcosa di digitale. Detto di questo io penso che sia molto più utile per vedere direttamente i file. Quindi allegati all'assegno troverete questi file. Vi faccio un esempio per esempio questo è un laboratorio per la realizzazione di un robot scrivente. Ovviamente come vedete ci sono i materiali occorrenti e poi vi vengono spiegate le varie fasi. Ovviamente c'è da dire che qualora trovate difficoltà vi potete sempre contattare e c'è da dire di ripeto di documentare attraverso delle foto i vari passaggi. Quando documentate mi raccomando con delle fotografie per esempio mi raccomando concentratevi sul su quello che avete tra le mani e sulle vostre mani cioè su quello che fate con le mani. per dopo vediamo un esempio quindi capirete per esempio un mini plastico di una stanza mi è stato già realizzato quindi questo può essere utile a coloro che hanno realizzato il rilievo il progetto di una stanza oppure costruiamo la bot mobile scusatemi. Io quello che vi chiedo è che in un periodo come questo ancora non sappiamo se le uscite sono ancora in qualche modo limitate quindi semmai se volete realizzare una cosa del genere aspettiamo di aspettate quindi che tutto sia un po più tranquillo semmai superata questa fase 2 e quindi più liberi di acquistare il materiale ma ci sono alcuni laboratori che possono essere realizzati anche con diciamo un materiale che già si ha in casa quindi ovviamente ce ne sono alcuni che sono complicatissimi non vi chiedo di realizzarli però io ve li ve li allego perché comunque sono appartengono anche al vostro libro quindi è anche giusto diciamo per coloro che sono bravi che hanno un genitore appassionato che vedono qualcosa di un po più complicato però io ovviamente non pretendo che vi realizzate cose complicate e questi sono tutti dei consigli secondaria cosa su internet voi troverete un'infinità diciamo di cose da poter realizzare le relativi relative per esempio ai ai motorini elettrici io vi allegherò anche questo link che il link del del leni in cui c'è appunto cliccando su un motorino elettrico potrei potete trovare diciamo un video tutorial che vi spiega proprio come realizzare un mini motorino elettrico ovviamente ripeto senza in questo momento un momento critico quindi semmai per la realizzazione aspettate un pochino per l'acquisto dei materiali perché abbiamo ancora le uscite limitate oltretutto diciamo la realizzazione di uno di questi laboratori non è obbligatoria ma è facoltativa io vi do soltanto dei suggerimenti poi scegliete voi detto questo quindi oltre a queste non vi allegherò ma potete realizzare per esempio se siete interessati delle trottole facendo riferimento al Bauhaus chi di voi può portare chi porta non lo so qualcosa relativo al gioco in tecnologia potrebbe realizzare questo che fa che potrebbe essere collegato anche ad arte ma io voglio vedere per quanto riguarda la realizzazione manuale potete realizzare delle lampade per esempio quindi tutto ciò che risulta essere che può essere costruito con le mani ovviamente sempre in questi casi aiutati e con il materiale semmai anche già disponibile mi raccomando documentate il tutto e su internet trovate un'infinità di queste cose per esempio questo lo vedremo questo è un circuito su carta c'è il file che vi allegherò che vi fa vedere come realizzarlo poi vediamo un poco questo è la pila e ve l'ho allegata perché è stata realizzata da un vostro compagno il modello di zootropio questo non ce l'ho però penso che lo trovate su internet questi sono tutti vedete questo è un modellino molto avanzato è dice dell'appartamento veramente siamo alti livelli qui anche con le luci quindi questa è una lampada lampada che mi è stata realizzata ve la farò vedere per esempio su internet trovate l'infinità di queste lampade c'è anche la possibilità di realizzare un sapentino su anche questo trovate se non mi sbaglio proprio su youtube come realizzare un sapentino e e quindi queste sono l'infinità di lampade realizzate di cartone e potete tranquillamente realizzare anche con partendo dallo sviluppo di un solido ma guardiamo quindi queste le allego quindi non abbiate timore poi le trottole le lampade se avete necessità potete anche chiedermi guardiamo un po quello in realtà così capirete anche quali sono le le cose che potete realmente progettare o realizzare come stavo dicendo potete progettare per per coloro che hanno che hanno realizzato per esempio il progetto di un banco potrebbero partire come è stato fatto questo è da una vostra compagna di quest'anno è partita quindi dalle proiezioni ortogonali di un oggetto di casa come potete far voi fare degli schizzi avendo un'idea realizzare quindi le proiezioni ortogonali dell'oggetto riprogettato e quindi poi alla fine in questo caso poter fare la sonometria lei non l'ha fatta proprio perché ancora non l'avevamo studiata ma potete progettare un oggetto quindi ex novo come è già stato fatto per il banco per alcuni di voi potete per esempio questo per esempio realizzare un modellino questo mi è stato realizzato da vostro compagno negli anni precedenti questo è un modellino di un ponte io però diciamo sui modellini in quel momento in cui non funzionano sono un po scettica nel senso che bellissimi dovete essere appassionati dovete avere il materiale in casa però io preferirei qualcosa di funzionante però siete liberi di scegliere vi faccio vedere per esempio come dovete montare poi realizzare proprio le schede relative a documentare per esempio il vostro lavoro vedete occorrente dovete scrivere quello che esista dopo di questa è la realizzazione della prima di volta anche questo trovate su internet fatta proprio con i centesimi e se non mi sbaglio non mi ricordo proprio anche con l'alluminio con la carta all'alluminio quindi vedete svolgimento prima dopo vedete collegamenti qua spiega quello che lui fa vedete ci sono le foto delle mani concentrate sulle mani per vedere poi alla fine che attraverso questa pila che ha realizzato lui accendere un led mi ricordo che questo alunno poi l'ha montata proprio in classe durante l'esame ovviamente voi realizzate il file dimostrate in realtà che l'avete fatto voi attraverso quindi foto e testi che possono andare all'interno della tesina questo sempre quando realizzate qualcosa lo dovete sempre documentare potete per esempio questo è un pannello solare la scheda ve lo data che è stata realizzata anche questo questo è un oggetto molto costoso da dover realizzare però un vostro compagno era appassionato e ha realizzato proprio il pannello solare per riscaldare l'acqua all'interno di questo contenitore c'è la scheda tecnica poi potete per esempio questa ragazza questo è un progetto di quest'anno potete realizzare un plastico dell'appartamento questo è molto semplice realizzato con i semplici cartoncini a casa ovviamente ci sono modi molto più complessi però giustamente se non potete uscire questo è quello che potete fare c'è questa lampada che mi è stata realizzata su internet se scrivete lampada di cartone ne troverete in infinità questa è stata realizzata nella vostra compagna aveva portato appunto poi delle foto che faceva vedere come l'aveva costruita potete poi realizzare un video un video su che cosa questa con la tecnica dello stop motion cioè ovviamente è stato realizzato non è probabilmente preciso però farvi capire ho fatto tante foto con la fotocamera ferma e muoveva un pochettino il diciamo il burattino se volete realizzare questa basta che trovate su internet tecnica dello stop motion con una fotocamera anche il cellulare con poi un software di montaggio potete realizzarlo quindi progetto per esempio vabbè questo qui è stato realizzato questo modellino da una ragazza che il padre lavorava all'emo quindi vedete è proprio un modellino eolico dove qui si accende il led quando gira questo siamo a livelli molto avanzati il padre aveva già il materiale poi invece abbiamo il progetto di un manifesto ad esempio questo ragazzo fatto vedere poi se vi serve vi mando come quali sono i passaggi che lui ha quali immagini ha visto i test che ha cercato per poi arrivare al al manifesto finale un manifesto solitamente una foto con un testo sotto vediamo un po potete realizzare un video io ve lo faccio soltanto iniziare a vedere perché questa ragazza non mi ha rilasciato quindi l'autorizzazione quindi ma non perché perché non c'è stata la possibilità potete realizzare anche un video con una storia soprattutto per esempio di questi vedi questa è la stessa che è che ha fatto le riprese ha fatto lei il montaggio ha fatto lei la storia messole la musica e lei era la protagonista del suo film di questo mini film io mi fermo perché poi si fa vedere tutto il filmato potete realizzare socialmente un bellissimo filmato sul periodo che è stato quella della quarantena proprio per quanto riguarda i filmati c'è c'era c'era un filmato che non mi posso far vedere per voi perché vengono ripresi gli alunni stessi c'era un filmato che è stato realizzato da un da un'alunna per fine anno in cui praticamente venivano intervistati i suoi compagni questa è un'idea che che avevo dato proprio facendo riferimento ad un film di Walter Bertroni intitolato i bambini sanno potreste realizzare quindi un filmato in cui riprendete per esempio i vostri familiari dopo aver visionato questo film guardatelo su internet ovviamente ci sarà qualche presentazione su youtube qualche trailer ci sono dei bambini che vengono intervistati e potreste voi fare delle domande ai vostri genitori su questo periodo sulla quarantena ma anche sulla felicità su altre tematiche a cui siete legati ovviamente la ripresa mi raccomando va fatta mantenendo il cellulare fermo se vedete gli intervistati stanno sempre seduti e dietro non hanno niente quindi dietro c'è un muro bianco giallo purtroppo ho detto non posso farvelo vedere però è molto minimal però se volete fare questa cosa semmai vi mando il link del filmato per farvi rendere conto potete realizzare un circuito elettrico come realizzato questa ragazza quindi siete liberissimi di fare vedete fatto sempre vedere un semplice circuito elettrico se volete realizzare questo poi su internet ce ne sono tanti ma ve ne ho collegati anche di diversi quindi un filmato un manifesto un progetto di qualsiasi un progetto di un oggetto anche ex novo di un oggetto che vi interessa un modellino scegliete voi questi erano diciamo i lavori degli anni precedenti se avete qualche perplessità mi contattate e detto questo vi auguro buon lavoro e alla prossima